che è bella no l'ha segnato la Lazzio No vaga ha segnato la Lazio, no 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 ha segnato la Lazio, no no no, ha segnato la Lazio della porta, merda, ha segnato la Lazio, canto, ha segnato la Lazio, merda no. GUN LLAPO! SIIIIIII! Nooo! Nooo! Oddio! Oddio! E la Madonna si può spingere! E la Tantosfera! Nooo! Ok, sto a 4! La devo tirare io sulle spalle! Oddio Mario mi ha preso! Sono uscito! Sono uscito! E' arrivata! E' arrivata! E' arrivata! La mamma mia dei costume del 2023! E' arrivata! Mamma mia! Te! Oh! 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 Oddio! 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 si se tocco il palo tifo lazio madocca prime che sta toccando il palo da luigi dimmi la seconda squadra di roma oddio una persona non può neanche andare a liberarsi si deve vedere non è come se non è come se non c'ho un aggiornamento qua dietro non è un aggiornamento niente sono un coglione e non che ha fatto stozzate col gioco e lo sta riaggiornando sono un coglione no non sono un coglione cassa grazie grazie e che purtroppo io coglione da quanto tempo è 7 minuti mi dice quindi tanguillo che c'è tutto il tempo nel mondo perché ho cambiato la chiavetta ecco cambiato chiavetta quindi mister ragione mi sta installando l'aggiornamento di nuovo sulla chiavetta mi incazza come una fottutissima iena mi senza mando aggiornamento sulla chiavetta perché ho il gioco digitale sono un coglione oltre a fisico chi sa perché dovrei evitare il problema invece cosa farmi una rapida per sottopera tutto il tempo nel mondo per fare una rapida perché come 17 minuti e se io provo ad aprire il gioco mi fa c'è se io proprio il gioco lo avete dal pad ma è vi è bloccato e spartum dove sta a me c'è un problema mi si è bloccata la console la console è mo' preparazione aggiornamenti però lei proprio non me lo lascia neanche più apri non me lo lascia più aprire quindi le prima giornate il gioco e poi lo facciamo chi zio secondi su ti ho trovata vedi non è come splatoon 3 che ci mette di 32 anni splatoon 3 ci mette minimo 10 anni ah cioè io ho questa signorio io ho questa io ho questa cioè prima o poi la prendo la dea bianca eh prima o poi la dea bianca la prendo e questa giveaway nooo me la tengo e faccio no bro che lino mamma ma sei sano anche te anche te sei sano bro la vuoi la vuoi questa giveaway te la regalo zero euro te la regalo comunque parlando nel frattempo e faccio vedere la view nel frattempo cioè nel frattempo che qui aggiorna e faccio vedere tutto la giornata a me tutte cassi il nome manco gratis questo è un nome alla mia squadra consigli gli scarsi come te gli scarsi stavo dicendo per la gioia di tutti e quanti tra poco po parliamo 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 proprio chill parliamo perché è giusto parlare e dove quasi a giorno ve lo vedete voglio le vostre idee io mo arriviamo a mille arriviamo a mille tra poco volevo preparare belle sorprese per tutti minchia gioco aggiornati orco giuda da cazzo di chiavetta dieci anni per una giornata 500 mega del cazzo volete moletti per ti rappresenta allora stavo dicendo prima di iniziare con splatoon che purtroppo ha deciso di morirmi in croce che non lo so mi stavo rimettendo just dance che non mi funziona il disco capitan told non mi funziona il disco che non mi funzionano i dischi dei giochi fisici solo che nello riscaricare ci ha messo 10 anni e non mi ha fatto fare aggiornamento di questo il disco di capitan told non mi funziona perché dovevo fare prima capitan told e più Mario galaxy sarà motivo se Mario galaxy non lo sto toccando volevo fare capitan told prima capitan io ho la meraviglia questo è un minuto pure oggi ciao carissimo e ciao anche a pro gamer ciao a entrambi purtroppo sto aspettando che mi finisca l'aggiornamento del gioco lo vedete sia dal gamepad in maniera piccola ma sia dallo schermo questo disco meraviglioso non funziona questo disco non funziona è un po triste perché ho speso un saccaccio di soldi c'è anche la mia girlfriend to a death e questo si aggiunge al disco che porca che schifo che schifo va avanti al cinema la raffan mok dai per essere a mettermi un disco la raffanmette c'è troppo ca si c'ho troppi giochi bisogna ripeti gli amibo del teo trio no tu mi stai dicendo a me si è rotto ca dentro dal ipoptionate appunto è un casino è brutissimo è bruttissimo e il fatto è che io non ce l'ho su switch o su 3ds che che almeno cazzeggio sai c'ho un'altra versione del gioco di cancazzi io vi ricordo che la mia versione di Splatoon 1 non mi funziona io c'ho pure il secondo disco io c'ho pure il secondo disco di Splatoon questo non funziona c'è scritto qui proprio non so se potete vederlo non valido cioè proprio non valido proprio non valido comunque è sanissimo che ci sia così tanta latenza strano vabbè cioè rendiamoci con questa roba è bellissima my girlfriend tu sei my girlfriend my girlfriend sei invidioso sei invidioso my girlfriend lei ama me non ama te lei ama me e ora me la vedo sull'uno tu ce l'hai sparato un uno gioca e no quindi lei è mia i minori mi stanno guardando la partita e poi verso quanto fa la piantina aspetta che controllo subito aspetta controllo anch'io non me lo odia tanto lo controllo ma da merd me però dovresti guarire molto tranquillamente posso scaricare i pini minchia allo diretta ma aggiorniamoci sui ladri è iniziato la fiorentina mi ha giocato a dinelite su ps4 no in realtà mi sa che non ho mai giocato un dinelite neanche il 2 ma mi hai notato lol e c'è che tocca ti noto ma cosa vuoi secondo te non ti noto lallo la ps4 ce l'ho la posso pure prendere tanto attualmente non è neanche attaccata perché attualmente la priorità l'ha avuta l'xbox solitamente il cavo di alimentazione l'ha avuta l'xbox o la playstation perché risparmio energetico ti consiglio il primo a me noi rispettavolazzi abbiamo segnato bravo sei fantastico si mamma mia hai ragione da vendere tu hai ragione comunque vi dicevo prima prima che tra poco arriviamo a mille volevo fare tante piccole sonzatine incluso il giveaway della mia merce grazie 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 giveaway della merce mia grazie 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 giveaway della mia merce quanto stupido dire giveaway della merce la felpa favidix ho pulato i favidix madonna il cringe mi sale potentissimo gata elegan quante notifiche manda dai qualcuno chi è che ha acquisito un comunque ti do un consiglio leva la fotoprofila rischi di essere bannato però ti do un consiglio rischia di cioè cambia per favore cambia la pfp perché rischi un bel ban un bel te lo dico molto chiaramente rischio un bel ban io ho la wiiu perché ho la wiiu ma guarda matte 109 matteo ti è meglio se non hai robe per gamecube se non hai il dischino quello piccolo il disco classico è così chiamami mine ah e allora ti ho scritto sul disco di questo se tu ce l'hai tipo così più piccolo ti conviene restare con wii se invece non ce li hai ti consiglio di passare a wiiu rischiare di perdere dei dati di sabbataggio e dovrei capire come si fa a far passare tranquillamente ti consiglio di prendere wiiu perché ti ritrovi tutto wii cioè ho qua sotto i giochi wii bene oppure è questo cosa io sbatto uno voc dopo ecco che facciamo voc per dire io mi sto recuperando un sacco di giochi per wii grazie a wiiu e te senti per ragionare che go porca puttà per fare ragionamento mezz'ora ma che per fare ragionamento mezz'ora mi stai attufà mi stai attufà mi stai attufà chiavetta mi stai attufà ma che mi stai attufà senti db vieni già adesso in vocale così almeno mi evito la rottura di cazzo di stare da solo mi chiazza dimmi ah ok sta già settata quindi devo soltanto unirmi mi la best odi ovviamente devo bisogna guarire io guarisco bravo db sei sano ora non è best lol guardiamo fare una cosa attorno un po' ci vorrà tempo scusatemi ah db è bella mia bella marina eh ti piace sì però porca pittani io volevo giocare perché mi sta fa l'aggiornamento mo per cui ho cambiato la chiavetta o l'ho messa da 64 giga invece di 8 giga 64 peccato che lo sai che io potrei fare splatoon anche lunedì solo che te non stai ma dopo torna presto torna molto presto ti aspettiamo madonna perché ti faccio il doppio aggiornamento io volevo soltanto giocare a splatoon madonna come sta andando stanno le persone ma io non ho la live no adesso perché sono la telefono lol lol mamma mia beh chi è che ha splatoon qua solo db possibile solo db a splatoon bravo bravo db sei l'unico con una wiiu sei intelligente forse dagli 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 50 non ce l'ha fede arrivare a livello 50 buh ma si che ce la faccio ma 50 minchia 5 5 feo in competitiva eh la 2000 competitiva si 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 allora sussimo io che non le torni più velocemente che che su splatoon 3 madonna è meglio splatoon di splatoon 3 quindi mi stai dicendo eh si quanto mi dà al porco giuda di cazzo oppure basta vincere cos'è aspetta 10 10 mischi eh 10 rapide madonna quindi quindi minimo 45 minuti li perdi esatto però qualche potenza io volevo giocare cioè quando ti arriva splatoon claro ho ordinato splatoon 2 lo sai è bello splatoon 2 l'ho provato solo una volta è meglio del 3 o 2 è meglio del 3 è particolare invece l'1 perché si ah ma è arrivato l'a di la grafica delle armi di splatoon 1 e la miglia di tutte cazzo cosa stai dicendo però dici vabbè stavo vedendo chi sei giù ah cioè tu manco ti fai la scusa interessante che dici stavo vedendo la fiorentina oh la scusa bella è dovresti fare la fiorentina e poi in campionato la di dovresti fare la fiorentina in campionato signori io sono però alla viola nel recupero fiorentina atalanta ovviamente chissà perché la fiorentina vince 1 a 0 speriamo si ripeta anche in campionato casualmente l'atalanta è a solo almeno 2 dalla roma quindi speriamo che perdano poi contro la fiorentina casuality signori casuale casuale adesso a fare non si adattiva si oddio stava facendo lo speeding si stava speedando un attimo il download che cazzo è successo c'è tu da roma qualissi senti se non vincete il derby non te ne frega più cazzo se tu perdi il derby la champions proprio col binocolo la vedi cioè già stai a meno 11 dal bologna contento della mia fotoprofilo fammi vedere la fotoprofilo è sicuramente migliore della cagna quindi sei sano sei sano però sei sano è meglio della cagna poco ma sicuro stavo dicendo vabbè bologna quest'anno c'è là di state sotto la juve state sotto la juve madone sotto la juve state voi come fate a stare sotto la juve come è possibile come è possibile che la stonvilla abbia recuperato il city come è possibile poi se ne attacchi quel gioiello che veramente figurati se va alla Lazio non sia a me che va alla Lazio quando mai va alla Lazio ma Lazio lo facciamo incazzare ma Lazio lo facciamo incazzare DB vuoi che facci incazzare la di come una aliena vabbè vabbè Lazio tu conosci la zita quella squadra di fenomeni tu conosci la zita te la ricordi molto bene giusto la zita l'anno scorso fenomeni fenomeni l'anno scorso la zita certe vittorie che ha fatto è la zita giusto oh di madonna non vi voglio dire cazzo è la zita zaccanilo ma si lo ha preso 3 a 0 col canates no non è che ha preso 3 a 0 col canates cazzo il canate dov'è tutto scherzo dov'è il canates ma tu parli dell'urupa aspetta stai sentando qualcuno in quel nome della squadra allora oggi ha giocato contro l'eracles l'eracles ha giocato oggi eracles alkmar con la s la s forse parli dell'e la d non è finita da 0 è è finita 5 a 0 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 la madonna però la ti ricordati si era Lazio alkmar mamma ma Lazio alkmar mamma mi madonna 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 mamma mi Lazio alkmar mamma mi madonna sicuro sicuro oh ma questa giornata la console la chiavetta ci può piegare di meno pensa che ha messo io volevo giocare io volevo fare le partite io volevo giocare pensa che ha messo una ma quando sei così dall'inizio sto aspettando che la chiavetta si installi splatoon c'è l'aggiornamento perché io a riscaricarmi Captain Todd che non mi funziona il disco ci ha messo così tanto che non ho avuto il tempo di aggiornare questo perché ho cambiato tutto ho cambiato la chiavetta dove metti i giochi ho cambiato la chiavetta dove metti i giochi quindi ah si si ah non scrive oh che è segnato ha segnato l'U35A1 sono fissiati col 5 in R divisa che cazzo è vabbè che cosa devo dire l'Ajax in conference l'Ajax in conference si è giù e tanta roba eccola come mai non ci scrivi niente non ti piace Splatoon non ti piace Splatoon oh mio dio cosa vi do lolbia lolbia che retrocede si lolbia che retrocede si c'è c'è nelle serie B madonna mia dopo questo inizio ma perché non mi prendete i cazzo di manga che sono più belli l'Atalanta l'Atalanta oh mio dio cosa sto vedendo OMG l'Alessander sta per retrocedere no no l'Alessandria scende in serie D la D non so se te la ricordi l'Alessandria c'è l'Alessandria no povera Alessandria madonna oppure la Gianna Erminio madonna mia che va in serie B che cazzo è il manto venisse di B il manto venisse di B e rip adessanta la ricordi qualche anno fa l'Alessandria in Coppa Italia fenomeni casualmente ah io mi ricordo un certo spezia tipo fenomeni io mi ricordo lo spezia fenomeni tutta la Coppa Italia tutta la Coppa Italia tutta la Coppa Italia poi che suali arrivarono tipo in semifinale e conto che persero batterono la Roma ai riguri ai quarti tipo un po' quanto ama che uscita madonna che vergogna madonna che vergogna cioè io mi vergogno io mi vergogno cioè ha fatto più punti nelle ultime cinque il Verona che la Lazio nelle ultime cinque vergogna io mi vergogno io mi vergogno cioè io mi vergogno ha fatto più punti il Verona il Cagliari il Cagliari otto punti nelle ultime cinque la Lazio solo sei io mi vergogno io mi vergognerei io mi vergogno aggiungerei che in realtà i sei punti sono nelle ultime due partite io mi vergogno sento puzza di brutta gente che si avvicina questa settimana aspera 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 fai invedere uuuuh madonna Napoli Torino Fiorentina bella vittoria per tutte queste caro squadre fortissime il Monza perde sicuro L'Empoli non vale niente la Juve perde sicuro la Juve perde contro la Fiorentina sicuro perché non è Lazio Vlaovic chiesa ritornano a infortunarsi a sbagliare a portavozza sicuro sicuro e poi mi vedo la Roma un certo tammi mamma mia titolare giusto giusto oppure entra all'ottantesimo mamma mia torna Abram all'ottantesimo novantesimo tiro gol un azimato vado 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 non so se sa neanche se torna veramente è già stato convocato in panchina lo sai una volta è già convocato però mi dispiace mi dispiace è stato convocato tipo a marzo mi dispiace mi dispiace mi dispiace mi dispiace ah ma ma che cazzo succede gioca il bisonte il nostro bisonte ma se io cerco Abram qua con il tuo cazzo ci mette ad aggiornarsi buh dammi Abram eh si è stato in panchina eh si ha guarito è guarito è guarito è stato in panchina per Roma Sassuolo ha detto un os conferma che per Roma che cazzo vuoi il puffone cazzo vuoi io volevo giocare a Splatoon qua volevo giocare a Splatoon Gigi Madoka ha bloccato Gigi la dì sei bloccato anche te sei stato bloccato anche te campione la 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 è una politica chiara e diretta e lo del mario e monolid e per mario se ne può andare tango la menta dai si continua chi sei giù e si vola si vola dove si vola all'olimpico si vola all'olimpico la wii u ha deciso ww come seguile in italia penso che stiamo ancora così di questo paio non lo so la wii u che cazzo gli hai preso alla console che cazzo gli hai preso alla wii u non lo so vediamo raw su dmax smackdown su dmax breast all mania su dmax breast all mania su dmax perfetto ma che sei nato è mandragora la di mandragora che stasera perché oh che stasera oh che io avresto il minio a perderò contro d rock madonna no che mi dispiace giova lottare contro d rock anzi quello con le tb tu ci stai conosci un certo d rock e se cosa sta facendo ultimamente e sta facendo un po di spettacolo sta facendo una bella serie ultimamente non so se l'hai sentita ehm no ma no ma no ma no possibile proprio in una soia sentita ma questo è il minio 3 non so se l'hai sentita ok possibile non so se l'hai sentita ok 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 vedete che sei sta facendo d rock ultimamente hai un figlio da vicino la faccio di lei dove sta guardate che serie che sta facendo ultimamente il campione è nostro dove sta no 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 non è stato tipo un bel po' di tempo quel cosetto di piccolino alla fine quale si vedete se non alla alla della vedete signor incredibile vedete che spettacolo sta facendo il nostro campione io ho fatto 4 a 0 contro le nazumi kids fc che pippe che su shiru si sta giocando al gioco di nazumi 11 shiru si sta interessato in nazumi 11 shiru è guarita brava shiru sei guarita sono fiero di te sei sana comunque piccola novità ho già preso just dance 2017 quindi settimana prossima se tutto va bene finché di bene faccio just dance 2017 so già la prima canzone che mi verrà chiesta di bui scommette che te la indovino ok la prima canzone che mi verrà chiesta da klai shiru che scriveranno è popipo è popipo sto chiedendo puoi scommettere si si anche te resti popipo eh figlio di stronzo si si fangulo pensa alla patente come sta andando devi fare il traffico c'hai già fatto quelle video sono bastate a fare non solo ci sarà legale ah beh 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 sarei già la macchina pronta per la patente si si beh l'esame che lo fanno con quella dell'istruttore vabbè si vabbè si 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 l'esame si fa con la macchina con cui guidi però io intendo se tu appena avrai la patente avrai una macchina tutta la tua boh tutta la mia tre piccolette nel senso c'ho la macchina a casa che non si usa ah ok io invece ce l'ho tutta la mia sono dei chill tutta la mia eh tutta la mia sono felice bravo ovviamente una macchina adatta per neopatentati visto oh però la minchera è bella non so se te la conosci quella che hai fatto vedere si è bella si ma te ti sta sul cuor ti sta sul cazzo eh no non l'ho sentito bene che hai detto ah no che l'ho mai visto ah oh sai qual è l'unica persona a cui non piace la macchina mia class esatto beh tipicamente a me che si ha un po' guarda sicuramente è meglio delle macchine come la punto beh non la grande di punto quella classica merdosa ah ok beh vabbè lui è sui gusti la smart quello si comunque cioè è la macchina nella media non è nè bella ma neanche gli dice che è brutta la macchina cristo riusciano in sui giochi male che vada lo facciamo lunedì dai ma troppo la grua sto cazzo di fatto cioè non capisco che cazzo lo sta che cazzo sta fermando la giornavente è già installato porco di che cazzo ti vuole l'hai già scaricato l'hai già scaricato cosa ti costa che cazzo ti costa che cazzo ti costa è già installato è installato già l'hai già scaricato l'hai già installato porca puttana che cazzo sta installando di nuovo che cazzo sta installando vabbè ma noi andiamo fino alle 11 e mezza a sto punto si fa un culo la scuola aspetta non c'è un cazzo io devo andare assolutamente ma stai fissa a giocando io non sto tocando il pad io non tocco il pad tranquillo ma io sto giocando ti faccio il 2 partite ok ma letteralmente la mia switch gli ultimi giochi che ho fatto magari ti spiega molto vero? ti spiega molto è solamente Splatoon3 e No, hanno scritto immagina se manca un secondo e annulli la giornata Devo lollare per non farmi male Db ma tu hai la simulazione Sì, non ricordo, anche se l'ho provata Però ha il comando abbastanza La macchina è più dura come frame, anche il volante è molto grosso Una domanda, ma tu a italiano devi fare la simulazione? A italiano, per l'esame Vabbè Italiano quando lo fai la simulazione? Ma quale, per l'esame? Eh sì, per l'esame Abbiamo già fatto Siamo con altri anche italiano che Non le invarsi, non le invarsi Proprio Eh ma Ma se l'ho ufficiale C'è la simulazione Che ti fanno fare sei ore Seduto Ah ma mi ho fatto i miei mesi dagli scorsi Ah Ma mi devi confermare una cosa Ha senso studiare per la prova di italiano Secondo me Secondo me In senso magari Tipo guardarti La 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 Sezione notizie Sul telefono Un po' prima Giù notizie No Grazie Grazie Db Che almeno te Mi dai ragione Grazie che Mi dai ragione La sezione notizie No Perché Qualcuno Qui Mi dice Che deve studiare E noi Non abbiamo detto Perché Passa Tipo Le 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 Deve studiare Ma che la studia Lo dico per il suo bene Perché L'ho fatto io L'esame L'ha fatto là Di l'esame So cosa mi devo aspettare A perché Per la simulazione Si studia Ah Che capisci tutto Finalmente Sei sano Una simulazione Vabbè Ma Oltre che una simulazione Vabbè Stigian Cazzi No Ma Oltre Vabbè Simulazione Simulazione E' un'altra stronzata Alcuni la valutano A me l'hanno valutata Ma Cosa devi studiare No ma Le figure retoriche Sì ma Le figure retoriche Facendo la traccia B Eh Lo so E sai Da Sì Secondo te Secondo te La persona La traccia La fa più facilmente A un Liceo Non classico Appunto Ah ok Cioè un liceo Non classico Ti fanno La traccia Dipende Dipende Da che persona Sei Io Rispongo Con tali Casi Che Ti ha preferito Far la traccia A che le altre Tracce Cioè tu Lo sai Lo sappiamo Uscirà Una traccia Di informatica Come Ogni anno La traccia Di informatica Esce Non è riuscivo A giocare A spazzillissimi Minuti Prima che Se lo spiro Perché Porca puttana Sta cazzo Di console Per fortuna Che le muore L'online Finalmente Sta porca Puttanata No Allora Fammo così Dice Radio Dice Le 40 Vabbè Tanto Andrò sicuramente Dopo le 11 Per sta Stonsata Tanto Non ci sta Neanche più Il timer Che si fa Ma alle 11 Quindi Siamo a posto Possiamo fare 5 minuti In più 10 minuti In più Escono due Di teatro Non informati Che c'è Temato Che ragione Perché Figura Ti piace Una di attualità Perché Buoi Il resto E appunto Vabbè Gli autori Sono due Uno Uno Passato E uno Attuale Tipo Solitamente Così Uno Del passato Non è detto Che sia uno Che si studia La cosa Del passato Non è detto Che sia studiata Quello del presente È a cazzo Che passa Esce D'annunzio Non sai niente Non sai niente Non parlare È una scorsa Che è uscito Moravia Lo ricordo Moravia Mi sono trovato Davanti Moravia Me lo ricordo Moravia Mi è uscito Non l'ha fatto Quasi nessuno Nella mia scuola Non l'ha fatto Nessuno All'altro Non mi incordo Io ho fatto L'attaccia più popolare Bellissimo Io l'anno scorso Ho feci l'attaccia più popolare Bella Quella di Alberto O Ang Mi credo Se è Piero Alberto Di O Angela Eh sì Quindi Hai capito Com'è la situazione Non è che mi dici Italiano È la solita Puttanata Che hai l'argomento Lo devi portare All'esame Alla simulazione L'argomento Non sta L'argomento Purtroppo All'esame Non sta Ti può dire Culo Di bro De coprata Che lo devi fare anche te All'esame Ti può dire Culo Che sono cose Che sai E quindi Ma ti può dire Anche sfiga Forte Che sono argomenti Che la scuola Non ti ha trattato Argomenti A cui non sei interessato Argomenti Che hai fatto E non sai È bruttissimo È bruttissimo Quindi L'ho detto Io Non ti serve Studiare Perché Meno di un minuto Sì Speriamo Speriamo Tu le cose Le cose Le devi già Sapere Di tuo È questa La roba Che vuole vedere L'esame Quanto Tu Sei interessato Quanto Tu Sai Ancora Non hai capito Che L'esame Non vuole vedere Quanto sei bravo Vuole vedere Quanto sei Interessato L'esame Vuole vedere Il tuo interesse Non le tue competenze Sta finendo L'ho vista Sta finendo Sai che vado da My girlfriend My girlfriend My girlfriend My girlfriend My girlfriend Ma devo simparare Per bene Che cazzo mi metti Preparazione in corso Oh Ti l'ho fatta Io non lo ottengo In interesse E avrai un voto Basso E avrai un voto Basso E avrai un voto Basso Vero Quando ti è l'interesse Per la scuola No Non mi è capito Allora Io ho detto L'interesse Non per la scuola Per l'attualità Ho detto L'esame Vuole controllare Il tuo interesse Per gli argomenti Attuali Quanto è lungo Non è che ora mi fai fare tutto da zero Mi cazzo Ok Io ho capito Eh Sì dai Fantastico Si è bloccato tutto Morto Stai loo Ha riluppato Devo spegnere la console Quanto è 969 Grazie Grazie Io ho spento le pad Ho dovuto spegnere Perché porca puttana non si spegneva Non si spegneva Non si spegneva Guardi stavo dicendo prima Appena arrivo a mille ci farò tante belle cose A fare il giveaway Fare il giveaway Dalla mia merch Ti piace l'idea di B Nooo Non è come sembra Non è come sembra Non è come sembra Quanto brutto vedere La roba di selezione Per Wii o Wii U Ma mi devo installare Pretendo Appena posso Per cercare di scaricare Mi pretendo qua sopra Perché altrimenti L'online muore Tipo di server online Mi sa che la console mi muore Posso aprire il gioco Posso aprire il gioco Mi sta morendo di brutto Posso tirare fuori il disco? Posso tirare fuori il disco? Il disco è fuori il disco è fuori Il disco è fuori Il disco è fuori Il disco è uscito Il disco è fuori Il disco è fuori Il disco è fuori Mi si è bloccato! Ma si è bloccato! Se stacco però la chiavetta si stacca subito. Volete vedere? Stacco la chiavetta. Lo sapevo! Lo sape... Ho staccato la chiavetta... Spegnere subito! Se stacco la chiavetta si stacca subito! Casuale! Se stacco questa si stacca subito! Se tocca il disco non fa un cazzo! Se stacco una chiavetta... La console muore! Fa proprio ridere Stacco! Se stacco la chiavetta e le rompo... ...vive! Ma è attivissimo! Dove sta la porta? Odio sta cosa per la Wii U! Che le foto si sono messe malissime! Ma che? Non è neanche più la chiavetta! Non è neanche più la chiavetta! Che cazzo è successo? Beh comunque... Non sto più giocando a ninja! Mi metto proprio dimenticato! Bravo! Bravo! Sei sano! Mi sa che si sta accendendo! Olè! Mi fa comunque abbastanza ridere! Se io metto... Se io metto... Vaffanculo! Va... Select! Prendo solo due giochi! GTA 5 online! Cabangolo GTA 5 online! Su PS4! Ma il Rimini! Non lo so! Il Rimini ha deciso di vincere! Il Rimini ha deciso di essere la squadra più fatta del mondo! Il Rimini ha nei primi 45 minuti! 1 a 0! Fine partita! 5 a 0! Magia! Magia! Magic! Shock! Assurdo! Sentite! Prova a fare la prova della coglione quale sono! Non c'è il disco! Non c'è il disco! Non c'è il disco! Non c'è il disco! Io provo a fare la sonsata! цевa甲ili Ridiamo! Dai patented loop! Mi ha fatto fare tutto l'aggiornamento Per vedere una schermata così Vabbè, io vi sto triegando i poli dei cus Io ho partito in poli Perché tanto Non fu un cazzo Sì Ma è senza disco adesso? Eh sì, ma sto usando la visione digitale Ah Non me lo ricordo che ci facesse così tanto Ma no, ma c'era a me che ci vuole 5 secondi E appunto Cioè, cazzo gli hai preso Oh, ha finito Oh Ha finito, aspe Oddio È vivo Allora, campa Ma era tutto il frame lag pesante Ma erano tutti i frame lag pesanti dal mondo Il gioco che scatta Ma lo sapete che giovedì io faccio ninja Ninjala Adi, lo sai che io faccio ninja Il giovedì Comunque mi sa che è colpa della pennetta Perché? Non lo so Mi sa ancora la pennetta Intendo Domani, giovedì Lalalalalalalalalalalala Adi, non lo sapete La Juve è così forte E' fortissima la Juve Minchia Si è nato Simone Guerre Perché il caricamento del Attuale È inizia velocissima Ah, appunto Non capisco perché A me è un po' Funzio Cioè È È Bastanza velocissimo Sì, eccomi Però Il gioco è rimasto così Comunque la Juve è già ninja È guarito Ci avrai visto La Juve è guarito Chiro, vieni qua E vedi là di che è guarito E verrai così bannata Definitivamente Mi ha giocato nulla Oh, guarda Non lo dirò mai Dai, la diverto E' bello il caricamento E' proprio E' bello il caricamento E' proprio Interessante Mi fa proprio capire Di cosa parla il gioco Cioè Tipo Vedo qualcosa che nuota Cioè Quindi immagino che posso nuotare Ma Mi fa proprio far capire Pesantemente Non capisco Come mai è così lento Oggi Non l'ha definita Non sento più audio E' ripreso l'audio Non l'ha definita Forse Non spero Non sento l'audio E' ripreso l'audio E' finito l'audio Riprese No Ti attacchi al cazzo Ti attacchi al cazzo Ti devi attaccare al cazzo Ti devi attaccare al cazzo Ti devi attaccare E' proprio al cazzo Pesante Cazzo Mi stai a dire No ti attacchi al cazzo No ti attacchi al cazzo Ti attacchi al cazzo Ma che cazzo Significa Ma che cazzo Significa Ma vaffanculo Ma che cazzo E' successo Scusa Perché Mi spieghi Mi spieghi Perché sta a fare Sta cosa Nel 2024 Mi spieghi Perché sta a fare Sta a fare Sta a fare Sta a fare Nel 2024 Mi spieghi Perché sta a fare Sta a fare Sta a fare Sta a fare Nel 2024 Perché La tappa Posso fare Tappamente così Posso anche Non prenderli Oh my girlfriend My girlfriend My girlfriend My girlfriend My girlfriend Sei bellissima Non è come sempre Odio il cazzo Di pad Oh madonna No 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 Porca puttana Sto cazzo Di pad Fa schifo No Sto pad Fa proprio schifo E' tutto Driftato E' tutto Driftato Non lo so Che cazzo È successo Perché sta a fare Sta roba E' tutto rotto Qui E' rotto Il pad Per me Già è rotto Il pad Incredibile Posso capire Perché sta a fare Sonsata Mi persi i dati Ma perché L'ho persi Cosa ho fatto Come ho fatto A perdere i dati Com'è possibile Che abbia persi i dati Disco Mi devi dire qualcosa Boh E' appunto Ma cosa succede se metti Il disco Vedete cosa succede se metti il disco Vuoi vedere cosa succede se metto il disco E chiude il gioco Oh my girlfriend My girlfriend My girlfriend My girlfriend My girlfriend Ho visto my girlfriend Ho visto my girlfriend My girlfriend Stavo per vedere my girlfriend Ah non chiudere Eh l'ho chiudi invece Eddb lo devo chiudere Ma devo fare una roba Molto Interessante Che sono le mie bellissime Senti la chiavetta Staccati Ma proprio Voglio capire per bene Voglio capire bene Ok ma Raccendiamo Questa Fa un bel voletto Fa un bel voletto Ma sto usando Il disco Senza pennetta Ma si Ma il problema sarà la pennetta Ma il problema è la pennetta Sicuro Ma il problema è la pennetta E mi incazza come una aliena Ma il problema è la pennetta E mi incazzo Ma il problema è questa 64 giga Che non funziona I miei miei nuovi santini La Wii U è lentissima comunque Fa un bel voletto Non mi ha fatto Ma che vedi la roba Che cazzo è successo Gol Ma che ho fatto È velocissimo È tornato normale È tornato Vaffanculo Era questa stronza Era questa stronza Il problema Era questa stronza Il problema Era questa stronza Era questa stronza What the fuck Era questa stronza Il problema Ma vabbè Era questa stronza Il problema Oh io vedi My Girlfriend Signori Lookate Vedi My Girlfriend Guardate My Girlfriend Signori My Girlfriend Non ho io Sei bellissima Sei bellissima Sei bellissima Sei donna vera Sfondiamolo Il letto Amo Quanto sei bella Faffanculo I sensori Guarda come guarda Come guarda Come lei Dice che è meglio Cominire Do you feel And you Don't do me Where can I say You have You want My girlfriend Look at my girlfriend She's beautiful She's beautiful She's beautiful Kelly I don't need Your land Maybe you wanna You wanna Vedi Vedi La roba di Kelly Con Mary Dai Signori Andate E oltre Cioè pure che eri Sei bellissima Sei bellissima Sei stupenda Manca Manca poca 13 aprile DB Tu sei d'accordo Look My girlfriend She's beautiful Guardala Io voglio Il 31 Omaggio Salutami Che gioco Con DB Ma quanto sei Figa Quanto sei Figa Ti scopo Anche tei Già Aprile Dentro Maggio Shiver Che vergogna Debi Manco Sei online Non mi esci Non mi Dia Che sei Come Non mi Mi Non ti Vedo In rapida Eh Non sei in rapida Eh Allora Sarcazio Non ti Vedo No Beh Devo Rieser Online Io Vado In rapida Vai Miche È già Piede Nella Lobby Ma che Cazzo È successo Beh Non so Spattuto Non ti Passi Una Settimana Madomma Questa è Una Bella Mappa Ricordate L'ho preso Contro L'ho Cut Devo Rifarmi Tutti Secondo Capitolo Perché Non L'ho Salvato Sei Scarsa Shiver Scarsa Sperate Scarsa Sperate Sperate Gli ultimi Giorni Casualmente Stai In due Giochi Non sta Nel Tre Casuality Stai Ma Non sta Nel Tre Molto Casual Vero È La Mappa Migliore Non vuole Mica Stai Nel Gioca Poggiore Guarda Laga Bella Masconduta Mascondio Tutto Cazzo Laga Borroso Striccio Si Ragazzi Giù Cazzo No Madonna Ma Quanto fa Schifo Sto Cazzo Di Stick Pioca Non sta Sul Te Ma Fanno Un Beggiore Come Merda Sanguilla Di Qua Devete Morire Pissantaneamente Morire Il Dinamo Con Il Suo Orizzontale In Volo È Divastante C'è Il Dinamo Con Questa Ropa È Assassino Vediamo Così Assassino Che Rullo In Orizzontale Assassino Posso Cambiare Arpa Cazzo Non posso Cambiare Arma Qui È Vero Arma Non posso Cambiare Arma Cazzo Oh My Girlfriend Why He Singing My Girlfriend My Girlfriend Voglio Sentire My Girlfriend Non Questa Canzone Ho perso clama mi piace vedere spalato ognuno cosa consigli mi dai la sua doma consigli è tu come giocheresti di arte volevo sa volevo pantani di una cosa dalla will you ma che mappa di merda è cacciato ovviamente sei forte clama ti piace il mio vestito ti piace il mio vestito clà non ti ricorda qualcosina questo vestito che ho addosso quindi ti viene in mente qualcosa casualmente che suali che suali qual'è il tuo record di cose che sanno ta mappa sta sull'uno ta sul due sul tre non sa come cosa devi fare perchè dirgli se ne va spero no non riesco a giocare questo stick è troppo difettato però non riesco a giocare questo stick io è troppo difettato mi sto muovendo verso sinistra su gavi dai Beh la vocina Quanto è bello vedere Una sola capigliatura La cazzo è successo Per coloro a cui piace Il teleporting Madonna mia quanto odio Sto cazzo di stick Solo due No solo un tipo di capello Però solo un tipo Solo un tipo Ho i capelli lunghi Per le femmine Ho i capellini a caschetto Tipo non lo so Come si chiama Non ce la faccio Ebb che cazzo ti vanti che il mio stick Fa schifo Cioè io se puoi andare a sinistra non mi fa un cazzo Io sono andato a sinistra Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì mi sta muovendo da solo mi sta muovendo da solo mi fa proprio ridere mi sta muovendo da solo l'hai visto? che sta muovendo da solo mi sta muovendo da solo mi fa proprio ridere non so come cioè guardate come sta ben messo il mio stick del pad se devi cambiare arma e devi uscire se devo cambiare per forza devo uscire per forza per cambiare avvicina avanti e indietro funziona però se devo andare verso sinistra o verso destra un casino non ho capito no io stavo continuando ah ok ah vedo andare stab comunque il mio high score è 14.000 tipo il mio è 25.000 bravo 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 eh sì quanto l'ho tutto sto schifo ma anche se tipo i mini giochi ti davano altri mini giochi più ai livelli della storia no no con i mini giochi più ai livelli della storia no no con il niveau di resti se non è quali eh i 30 cioè i mini giochi e i mini giochi immagina che io ho quello della pallavolo eh ah forse anche con con le 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 i con le con le con le ed è caduta varie cose giusto per my girlfriend ma chi è tua però cazzo dici non ti vergogni prima è obbligatorio è sì il padre è obbligatorio per giocare continui a guardare gli schermo per l'amato madre mia il pad mi stiamo a ricontinuazione verso la destra bello questa è una idea secondo te è un po blima è una fidanzata e quindi non devi porti i game film ma perché non mi piace oh 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 che canzone oddio non mi piace i giochi che non mi piacciono non li porto più ho smesso di dover fare i giochi per le persone non è mi piace solo si potrebbe usare il controllo della wii u il controllo della wii u ce l'ho qui vicino non si può usare eh sennò mi cai non li vai di portare si rompe i coglioni qui giù mi romperai il cazzo mi rompe il cazzo perché io ho un cai 6 gx giusto tutto bene si senza lo stick che mi si muove non c'è la faccia muovervi proprio perché sono il gaccio no perché a me da proprio il cazzo oltre che sono il gaccio mi gaccia un pane impazzito lo sai mi dispiace ma non mi piacciono proprio c'era di tu credimi ok io non l'ho più toccato dal video che io non l'ho più toccato non l'avevo toccato ma madonna che tristezza e appunto che tristezza di andare a letto così pesce per dire che va meglio che cazzo c'entra ti dico più che splat1 è meglio del 3 non è che ci gioco fisso al 1 che cazzo che schifo non ha mai più senso cambiarlo che c'è gx ah no buonanotte buonanotte no il kraken si madonna l'ha accoppiata del secolo per l'adi calma ma 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 non c'è bello sii purtroppo lo stick fa schifo a me non riesco a capire mi sta andando verso la testa mi è spostato verso la testa il personaggio bello bello la con la puntata che è scritto si da ban diretto lo dico c'è debileggi a pro game come c'è che il ban no ma la prima che ha scritto il 3 meglio dell'1 c'è pro gamer si sta cercando il ban signori dopo ha detto voglio farmi bannare oh voglio cercare il ban 2 1 3 è diverso vero mi hanno pubblicato un video ma chi è questa persona manco la conosco più cani col maiale non dopo nessuno neanche quel ladone mmm manca uno nessuno oh che cazzo oh quando ho addosso stick tutto a me stesso ho perso perchè mi si muove lo stick mato quanto l'odio sto cazzo di gioco che non girano 3 cereso per l'uno sarà sempre meglio ma cosa dire di guardati chi sei sicuro che bello stai a giocare al pad l'ultimo content update appunto quindi è un gioco proprio di merda un gioco proprio di merda il 3 teore fa bene il te è proprio un gioco di merda ti ho gara l'uomo ti ho gara l'uomo ti ho gara l'uomo ho pure quello te va bene nel passato per la dk il volo troppo nel passato e cazzo seca si mettono ai codali così di tre anni fa per bello so perché c'è mai gol prende però guai almeno devi dire bravo sei forte di pia sono visto quanto sei forte dei fortissimo un passato aveva un incontro delle vecchie cuse che sono bruttissime che io non voglio ricordare per nulla al mondo il proprio forte perché non lo fai ancora adesso non voglio dire però non lo fai ancora adesso buon recupero anche se vuoi recupero cosa vuoi ma cosa vuoi ma chi si ma cosa vuoi ma cosa vuoi bravo però in cerca malati si intende cosa vuoi ricordare e io non voglio ricordare quei butti per di borgo giuda tu cazzo del gioco odio sto cazzo di stick dai db si può buscata porca puttana sto stick del cazzo sto stick del cazzo mi da proprio al cazzo lo stick ma cambia direttamente in che senso cambia direttamente non l'ho vista mi ha segnito pure l'inchiostro lo stick i soldi crescono i soldi crescono i soldi gratis abbiamo lo stick il pezzo per cambiare lo stick perché io ovviamente mi metto a smontare la roba se mi metto a smontare sta roba secondo te io mi smonto tutta sta robetta secondo te io me lo smonto da solo un mattone del capo grande la switch cosa è più grande la switch questo è il joy con attaccato per comprare il pad di dettagli secondo cosa è il pad secondo cosa è il pad ne sta uno per console secondo cosa il pad costa 40 euro così se voi cercate 40 euro ricoste il pad quando lo so di più è sì ma 40 euro per pericolo si può giocare a splatoon 40 euro per splatoon e basta e cazzo devo farcino e mo chiude poi il gioco e cioè qua io ho spedio 40 euro per giocare cosa ha splatoon e basta perché tutti gli altri giochi nel bene nel male non chiedono lo stick così esagerato cioè watchdogs si può usare il paolo il gamepad baionetta 2 chiede il gamepad ma è compatibile col pad maio tennis l'avete visto nintendo avete visto che cazzo di miei giochi stanno capitan torchi del pad e dettagli per quello iron warriors che ciò qui chiede non richiede il pad maio kato non chiede il pad kirby chiede il pad per il touch si va in my love però guaiisce ti prega si malato in realtà c'è un modo per usare il gamepad su splatoon ma è molto brutto uuuuuh guaiisce di tu mi sto a postissimo vabbè bravo daniele si scassa vabbè allora semplici vabbè io uuuuuh che cazzo vuoi ma però eh non c'è non c'è nulla maio vabbè fai su un voglione lulla che dente è oh dio che cazzo è successo a cui quanto fa schifo il pad di prima tu lo sai che esiste splat 1 a 30 fps ma di connessione l'alc immagino eh sto bad db che cosa è db db ti vuole non so per cosa e lo muoce loll ha scritto db è basso movemus e acta unite fida te ah adesso deve prendersi anche i co2 si alex da vero oh si fa tipo mille no 10.000 di danno ecco 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 cacca ecco 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 sto vedendo quanti anni mi mancano in corso ultimamma comparte in vita mia forse 13 euro quindi siamo alla conti più del mondo forse madonna quindi credo fosse purtroppo credo fosse un problema quindi chiudono online si l'online della wiiu lo chiudono vedete che schifo metto vedete che schifo madonna mi ma che schifo è bella tu sei donna 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 tu sei vera no no qui è minorenne signori aspere qui è minorenne aspere wait è minorenne che è in sto gioco no 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 cosa dite signori che è minorenne 17 oddio 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 Mi fai l'idea che siano quelli con la maglietta di Kelly sotto miri, sono sani. Ma proprio l'idea, se voi andate giù, l'auto mi segue, non so perché, l'auto segue me. Questa impazzisce, questa impazzisce, impazzisce, la strana impazzisce, è impazzita. Ma nai... Ma nai... Questa è bella, oh! Eh, così, eh! ah ma esiste poi a questa ah esiste poi a questa poi se ha lo splat, cosi ragazzi questa è lo splat, se lo sapete purtroppo sono solo se le canzoni a tassetta perché c'è anche 3 goes out l'ha fatto impazzire stupenda questo è l'handy che ti ha splat, un aiuto è bellissimo chiudere una diretta così con la canzone finale del gioco tu finisci a sé questa canzone è bellissima e no 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 la la una una mella la 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 gente ha detto che via quelli a me in nella mancina così dire che scrivano spuse 2 no perchè spune 2 è collegato ai save di splatoon 3 è collegato ai save di splatoon 3 mi dispiace spune 2 è collegato ai save di splatoon 3 perchè in tempi sono switch ma i run insieme forse l'operazione perché chiude wii u non chiude il gioco in sé chiude wii u eh lo so chiude wii u il discosso interno purtroppo non è così no che cosa hai fatto no perché no no che bacio brutto che hai fatto no guardi cosa dici oh no 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 è quella persona 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 mi ammazza mi ammazza mi distrugge mi distrugge mi distrugge signori io direi che per splatoon purtroppo basta così così questa cosa che sta a dire il bro nooo cosa dici nooo ffff signori noi ci vediamo domani su twitch per lo schifo la ninja che vi piace di b fa schifo ninja la come non piace c'è c'è bravo babà bravo sì ci vediamo domani signori addio ciao 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 ciao